Le idee non hanno bisogno di armi se sono in grado di smuovere le grandi masse Ae, aforisma della settimana, diretto, preciso, versato Noi seri, seri, buonasera a tutti, benvenuti finalmente al capitolo 19 di One Piece C'è da dire una roba, subito, prima di iniziare, è tardissimo, sono le 5 di sabato Io sono letteralmente disfatto, ho avuto una settimana terribile Ho finito tardi, consigli di classe, cose, veramente non sto neanche tanto bene Però ci do dentro perché è stato un bellissimo capitolo che chiude il flashback Però vi chiedo scusa, non sono riuscito a preparare, non ho avuto il tempo materiale per preparare questo video Per cui ho meno foto, ma in realtà volevo anche approfittarne perché a me il capitolo è piaciuto tanto Lo so benissimo che non è stato un capitolo scoppiettante, non c'è stato il botto finale La cosa mi fa anche piacere perché rimanda quindi al 1100 la chiusura probabilmente del volume E quindi il capitolo un po' più sostanzioso, penso anche con ritorno a Egghead Ma è un capitolo che, uno, è molto lineare Cioè nel senso che molte delle cose prevedibili Tipo, chi sarà mai il dottore che guarirà Bonnie? Cazzo, che cazzo, è mega punk, cioè è ovvio Ma poi, oltre a questo, anche come si sono svolti determinati fatti Cioè che alla fine Saturn è ovvio che è sempre cattiva Cioè non ci sono stati grandi colpi di scena Tuttavia ci sono degli aspetti molto interessanti Perché ora che torneremo a Egghead, quindi cosa farà Kuma? Cioè una cosa è pensare, Kuma arriva a Egghead Sì, si incazza, fa questo, fa quello Ma dopo aver visto questo flashback abbiamo le idee molto più chiare Su ciò che adesso ci aspetterà al ritorno a Egghead Quindi veramente è stato un bel flashback Manca soltanto da capire come è riuscito a guarire Jolly Bonnie Se c'è un legame tra l'anello e il posto della faccia Dove stavano appunto nascendo i zaffiri e scaglie di zaffiri Ma poi per il resto praticamente sappiamo tutto Tranne una cosa che è l'unica che mi è rimasta male Adesso ne parliamo un pochettino Il discorso, diciamo che è mancato il motivo e il modo in cui Jolly Bonnie è arrivato al frutto Comunque detto ciò, partiamo dalla cover Lasciamo proprio stare queste cover di Oda Praticamente un trio di procioni che devono pettinare Oden Io non so sempre che tipo di droga si fa Pi e sta gente Comunque parliamo innanzitutto di Kuma Tantissimo, voglio parlarvi di Kuma Di come ha concluso questo flashback E il video spero non sarà pesante Ma vabbè, alla fine il video su questo canale quello è Se mai mi conoscete Parliamo un attimino di Dragon Anche di alcuni aspetti sull'ipotetico frutto Parliamo di Jolly Bonnie Perché comunque anche lei ha un ruolo molto interessante All'interno di questo capitolo Di Vegapunk Che ovviamente anche a sto giro si è preso una valangata di insulti Ormai è una costante Vegapunk E poi ovviamente Saturn Che bisogna dire una roba Comunque vado, è un personaggio molto coerente con tutto il resto Ma soprattutto vorrei poi parlare un attimino del fatto che stiamo per tornare a Egghead Detto ciò io vi lancierei, ci lanceremmo tutti quanti una bella analisi tecnica E poi partiamo spediti con il commento ufficiale del capitolo Allora signore e signori, sta per chiudersi uno dei volumi più toccanti e profondi del manga Gustiamoci anche queste ultime pagine di Flashback Prima di tornare a Egghead E ho da parte col botto Una bellissima doppia con 12 vignette Una prima pagina con 12 vignette Che ripartono dall'ultima del 1098 Correndo in fiamme, tanto caos Soprattutto nella zona sud E c'è un dettaglio che ho trovato bellissimo Questo praticamente il doppio volto Di profilo sotto e frontale sopra del re Becori Che ovviamente va un po' in contrastare con tutti i doppi volti Che ci sono stati di frequente All'interno delle precedenti pagine Succuma Proprio la differenza di personaggio di re Potremmo dire Chi è il vero tiranno in questa storia Dopodiché A pagina 3 ovviamente C'è il climax di tutto questo All'Urusus Shock che si prende in metà pagina Ci mancherebbe altro Sopra ci sono solo alcuni dettagli Ma che dettagli Io uno veramente ragazzi Voglio farvelo vedere Il volto di Bonnie Ovviamente non tutto per i modifi che sapete Ma Bonnie è disegnata in maniera enorme In questo dettaglio a pagina 3 Dopodiché Andiamo avanti Qui è geniale la posizione di Saturn In questa pagina Che entra in quarta In quarta pagina In alto a sinistra Con questo sguardo minaccioso Verso il popolo e libertà In festa sotto E beh Governo contro popolo e libertà Ci mancherebbe altro Libertà urla per Kuma Questo Gorosei Kuma Che sembra sempre no Molto vicino a Nika Quando libera questi popoli Poi la quinta E la sesta Sono pagine quasi a specchio Nella quinta abbiamo Jolly Bonnie Per la prima volta La rivediamo da adulta Come quella che conosciamo E la sesta invece propone Una vecchietta Che poi in realtà è Connie Però l'effetto sarebbe In un primo momento Che infatti pure ci sono cascato Pensavo che fosse Bonnie Veramente vecchia Invece quella era Connie Quindi diciamo queste due pagine Molto simili Anche come in paginatura a specchio Con le due Bonnie La grande e la vecchia Il fulcro della pagina Comunque sicuramente La penultima vignetta Con Bonnie che parla tranquilla E dietro che ci sono gli idioti Questa veramente è il climax Dall'altro punto di vista Della comicità Perché è stato veramente Molto molto divertente Tutto questo Andiamo avanti L'azione arriva subito dopo Allora qui abbiamo Una pagina molto particolare Questa qui Perché è una pagina Con tantissimi dialoghi Ben 16 balun Non li ho contati Di gente che parla Mentre Kuma sta lì al centro Pensa Poverino Circo L'azione poi arriva qui Con Kuma Che praticamente Si autocondanna A riaffrontare Becori E vive così Da fuggitivo Così dopo aver salutato La figlioletta Inizia questo bel viaggio Il viaggio di Kuma Gira vari regni A me sta cosa È piaciuta tantissimo Ci sono pochissimi dialoghi Tante immagini diverse Sembrano quasi cartoline Anche l'impaginazione Della pagina 10 Secondo me È stupenda Poi ci sono anche Ospiti speciali I regni dove Ci sono stati Mugiwaran Alla fine c'è anche Il ritorno di Dragon A proposito di Dragon Il Dragon Da pagina 11 In poi Mi è piaciuto tantissimo Vediamolo anche qui Nei disegni È molto meno Rancoroso Più uomo maturo Di mondo Che si concede Anche un sake Col vecchio amico Merita Veramente merita Quasi quanto le gambe Di Belobetti Dopodiché Finalmente Padre e figlia Si rincontrano Bonny sfogge Una simpatica canotta In memoria Della mamma Mangione E poi tutti pronti A partire Per un anno Neonata Praticamente Egghead In tredicesima pagina Qui Oda presenta Subito i protagonisti Delle ultime pagine Cioè Vegapunk Che entra nel flashback Di schiena Col testone In bella vista E sotto Simpatico Anche sentomaro Perché intermezzerà Alla fine Questi momenti Simpatici Di gioco Con Bonny Mentre Kuma Parla col doctor Diciamo così Poi per lo più Ci sono dialoghi Nel finale Bello anche Vegapunk Che scopre Del sangue Dei baccani E fiuta L'affare E poi Kuma Che accetta Mentre gli altri Giochicchiano Diciamo anche Questa è carina E poi l'ultima Che di solito Ha il botto finale Ma qui abbiamo Soltanto Tra virgolette Un Saturn Che spia E Kuma Che svela E poi questo nome Il pacifista Molto simpatico Tutto qui Comunque nulla di che Anche perché poi Il 99% Della community Di strike Sperava altro Ad esempio Penso che molti di voi Speravate di salvarvi Dall'umiliazione Quando hanno visto Bonny Così diceva Allora forse Verrei veramente A 24 anni Non devo andare in galera Per certi motivi Ma purtroppo Mi dispiace 24 anni Sono solo un frutto Lei tuttora È una bambina È veramente una bambina Per un po' Ci abbiamo sperato Però ragazzi Pazienza Sigla Eh sì Un pochettino Bisogna dirlo Nel senso che Se Jolibone Avesse avuto 24 anni Io A meno io Con la coscienza Mi sentivo un po' meglio Ma va bene Lo stesso Ne abbiamo parlato Anche in live Ieri di questa cosa Possiamo perdonarci In base ad alcuni Giri di parole Che ho fatto Così giusto Allora Signore e signore Come vi dicevo Ho poche foto qui Ma il discorso Non voglio assolutamente Ridurlo Questo video è un po' Più podcast A parte che Secondo me Parecchi di voi Così vivono i miei video Allora Chi è Kuma Alla fine di questo flashback Un personaggio Che alla fine Si riduce Anche a questo Si riduce Sale sul trono Facendo anche questo Non permetterti Di alzare le mani Sul tuo re E anche questo dialogo È molto forte Questo è Kuma Praticamente Il personaggio Che alla fine Sfida anche il re Ma lui Non voleva farlo Lui non è Un rivoluzionario Come Dragon È un personaggio Che alla fine È rimasto molto legato Alla figlia Che bisogna anche dire Gli ha scombussolato la vita Kuma non avrebbe mai Assunto certi atteggiamenti Rischiato così tanto Se non fosse subentrata La figlia nella sua vita Perché è un personaggio L'abbiamo conosciuto Anche molto mite Nonostante la sua infanzia Ma io voglio parlarvi Di questo in realtà Partiamo da qui Prima di presentarvi Questa foto Di Nietzsche Allora Il punto è questo Se noi dovessimo Spiegare One Piece A qualcuno che non lo conosce No? Almeno come è strutturato Diremmo che One Piece È un manga Suddiviso In questi tre grandi poteri C'è il governo E la marina Che è la forza armata Dove principalmente Sono da un lato Buoni perché mantengono L'ordine Dall'altro cattivi Perché comunque Sono saliti al potere Sembra con un certo complotto E qui pensiamo A Im soprattutto Poi ci sono i pirati I pirati se ne strafregono Di questa storia Principalmente E i pirati sono quelli Che vogliono vivere La vita in pieno Non vogliono Accettare le regole Vogliono godersi Il loro viaggio Vogliono vivere così Nella libertà massima I pirati Ma sono divisi In due categorie Un po' come la marina Il governo Che hanno questi due volti No? Da un lato Ci sono i pirati Veramente cattivi Perché Sì vogliono godersi La vita Ma saccheggiando Rubando Rubando Anche con le donne Non diciamo parole Proibite Ma ci siamo capiti Alcol Droga E robe Mentre invece Dall'altro Abbiamo i pirati Esploratori Quelli che vogliono Semplicemente Realizzare i loro sogni Diventare grande cuoco Diventare grande medico Spadaccino Quelle robe E poi infine Abbiamo questa forza armata Che attacca direttamente Il governo Che è un po' più di nicchia Questa situazione Comunque quella Di Dragon Perché vi dico questo? Pensiamo già A personaggi di Guma Le ha vissute tutte È stato re È stato schiavo È stato rivoluzionario È stato pirata Anche pirata È stato flottaro Perché alla fine Diventa anche Praticamente Offre il suo corpo Alla marina E al governo E quindi Le ha vissute tutti Un personaggio assolutamente Eclettico E già questo Ci fa capire In che modo Questo flashback Riassume un po' Tutto One Piece C'è l'intero One Piece In questo flashback Praticamente Nel personaggio di Guma Poi altra cosa E qui Ci voglio piazzare il Nietzsche Perché il flashback totale C'è un libro di Nietzsche Volontà di Potenza Si chiama Allora Un saluto anche a tutti gli amici Di Potenza Ma non c'entra questa simpatica Cittadina Del meridione Allora il punto è questo Ragazzi cari Secondo Nietzsche C'è un argomento Molto importante Da toccare Piccola premessa Io vi chiedo scusa Ripeto Tanto io non faccio video Da 30.000 40.000 visualizzazioni Perché Romperei le palle Troppe persone Quindi Il punto è questo Io voglio veramente Provare anche Andare un po' più nel dettaglio Per 20.000 Ho 39 anni Quindi ovvio Che il mio modo di leggere One Piece A cavallo A meno fa tre generazioni L'adolescente Il trentenne E ormai pure il quarantenne Quindi ho il mio modo Di vedere il manga E vi voglio parlare Proprio di questo aspetto Secondo Nietzsche È fondamentale La morale Guardate quanti riferimenti A One Piece Adesso Vi trovate in questo discorso Nietzsche Già ne ho parlato in un amaro Ma Allora Qui andiamo un po' oltre La morale In che senso Tanti 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 anni fa Anche Potremmo dire Quasi alle origini Della civiltà C'era una morale Di fondo Che era quella Dell'eroe La morale Del grande uomo Ok Il conquistatore Di grandi regni Il grande guerriero Il gladiatore Potremmo anche dire Comunque Il personaggio eroico Che tutt'oggi abbiamo Molti ragazzini Molti bambini Puntano ai superman Ai grandi eroi Però Cos'è successo A un certo punto Che si sono anche un po' Resi conto di una cosa L'eroe è uno Il conquistatore È uno Cioè non è che tutti Possiamo aspirare A diventare davvero quello Serviva un altro Un'altra morale Un altro modo Di strutturare anche Le società Dicendo Ispiriamoci tutti A quella figura Perché se tutti quanti Volessimo diventare tutti eroi Sarebbe un bel problema E allora È subentrato Un'altra morale Ma anche prima del cristianesimo Già con i sofisti Infatti Nietzsche Parla anche proprio Di quelli che avevano Una grande dialettica La morale Guardate quanto è One Piece Tutto questo Dell'obbedienza La morale Del rispettare le regole La morale Dello stare Moggi-mogi La morale Dell'accettare Gli equilibri Che state pensando State pensando al governo State pensando a Im State pensando ai Gorosei State pensando alla marina State pensando a Toro Verde Quando a Wano dice Che il mondo è fatto di equilibri E il vostro sacrificio È necessario per mantenerli Per mantenere Questo mondo Praticamente Che è fatto così State pensando a Saturn Quando dice a Kuma Sei nato schiavo Resta schiavo Sì Teoricamente sì Questo è il mondo di One Piece L'idea di questa morale Che incita le persone All'obbedienza Quindi Voi siete Comuni cittadini Dovete rispettare le regole Pagare le tasse Il mondo è fatto così Punto Accettare questo Come vengono visti Quelli che non accettano Queste regole Male Vengono visti male Vengono visti come Personaggi Che vogliono distruggere L'ordine I maledetti Satanici Caotici E così via Ok Tornando un attimo a Nietzsche Poi è subentrato anche Il cristianesimo Che ha aggiunto Questo discorso Di morale Ma c'è un aspetto Molto simpatico Che secondo Nietzsche E qui andiamo a citare Poi Uno dei personaggi storici Che poi ha influenzato L'umanità Cioè Gesù Cristo Che viene molto citato In questo flashback Di Kuma Perché tanti sono i legami Anche l'offerta Che gli fanno Dei pesci Per me è un classico Tipico legame Il cristianesimo Nello scorso capitolo Però dicevo Secondo Nietzsche Cosa simpatica I cristiani Sono assoggettati A questa mentalità Per lui Poi in realtà Per me c'è un'altra idea Di fondo Basti pensare A quanti cristiani Martiri Hanno combattuto All'inizio Però vabbè Lasciamo stare questo Ma diceva Nietzsche C'è però Un personaggio Nel cristianesimo Che invece è quello Come piacerebbe a me Proprio Cristo Il personaggio Di Gesù Cristo Secondo Nietzsche È un vero Grande eroe Nel senso che Ha combattuto Contro il sistema Contro tutti Si è opposto Con coraggio E alla fine Anche la sua morte È una morte Da super uomo Da oltre uomo Perché è la morte Di uno che viene Lasciato da solo Su una croce Persino i suoi seguaci Chi lo tradisce Per tre volte Quando il gallo Canta tre volte Lo rinnega Eccetera Persino la famosa frase Anche un po' contestata Padre perché mi ha abbandonato Così lasciato solo Sulla croce Ecco Quello è un oltre uomo Per Nietzsche Stranamente poi il cristianesimo C'è questa cosa simpatica Ma Tornando a noi Pensiamo un attimo Al mondo di One Piece Secondo Nietzsche Si divide un po' in due La situazione Tra il mondo Apollinio Di Apollo Quindi il mondo Dell'equilibrio Dell'ordine E il mondo di Dioniso Il mondo Di chi si vive Si gode la vita L'ebbrezza Eccetera Poi Ci sono tanti aspetti Voglio andare nel profondo Tanto che cazzo me ne frega Tanto questo è un podcast E ve lo volete gustare con calma Pensate anche a questo dettaglio Nella mitologia greca Molti miti Hanno una chiave di lettura profondissima Ad esempio Lo sapete tutti Narciso Quando si specchia nell'acqua Poi attratto dal riflesso Muore In realtà Una chiave di lettura profondissima Di questo mito È che Un narcisista Si rifiuta Di guardarsi dentro Nel profondo Perché sa che rischia Queste sono chiave di lettura Molto affascinante E c'è un mito Un mito Secondo cui Un personaggio Si Diciamo Non è che si innamora Più che altro Vede la Dea Artemide Nuda Lui Non c'è Lei stava lì Nel lago Lui si affaccia La guarda E rimane anche un po' così Alla fantozza Lei se ne accorge Si incazza E lo trasforma Lui era anche un grandissimo Cacciatore Ma si trasforma In una preda Viene trasformato In un cervo Comunque Manco fa l'apposta Poi in una delle prede Tipiche della natura C'è una chiave di lettura Molto profonda Di questo Di questo mito Che si rifà Praticamente A quello che accade A Kuma E ovviamente Anche a Rufi Nel manga di One Piece Succede questo A chiave di lettura Tutti coloro Che Affrontano qualcosa Come un cacciatore Che affronta Artemide Che è la Dea della caccia Quindi l'uomo Che proprio Raggiunge l'essenza stessa Di quello che vuole fare L'uomo che Si trova tu per tu Con la Dea della caccia In persona Alla fine Si tramuta In preda Cioè Diventa natura Il cacciatore Che diventa Preda Nel senso che Si unisce al mondo Della natura Infatti Si usa spesso Anche questo termine Di sciogliersi Nel mondo Ma queste sono cose Tipiche dell'oltreuomo Di quelle persone Che combattono Talmente tanto Qualcosa Ad esempio La libertà Che si trasformano In libertà Questo è il senso Del mito Rufi non è più Un pirata Che vuole la libertà È la libertà Stessa Proprio come Nascono i frutti Del diavolo Guardate Sono dei riferimenti A volte che fanno Scoppiare il cervello E allora Io adesso Ho qui davanti a me La prima tavola Di questo capitolo 1099 Cioè C'è un kuma Devastante Io leggo Dialoghi Non puoi salvare Altre vite Va via Quante volte Hanno detto A kuma Va via Salvati Lascia stare Rinunciati Persino Ginni Guarda ma non puoi Andare avanti così Non puoi prenderti Sempre la sofferenza Di tutti quanti E lui Niente Quando vuole Un testardo Cazzarola Va avanti Per la sua strada E alla fine Il gesto Che fa Di cui vi parlavo Prima Non alzare le mani Sul re Ma questo Che cos'è Se non la lotta Al sistema Questa è Lotta al sistema La rottura Dell'equilibrio E la libertà Questo è Nika Cazzarola Capito che dico Ma poi Ci sono delle pagine Successive Sempre qui Di un kuma Che inizia a viaggiare Il viaggio di kuma Guardate io l'ho trovato Una delle cose più belle Di questo flashback Che è un flashback Ricchissimo Ma qui siamo Proprio all'apice Un po' bello Perché poi Andando a citare Tutte le isole Il regno di Torino Il regno Tequila Wolf È stato anche divertente E poi giustifica Giustifica come Come ha scelto Questi luoghi Per mandare Mugiwara Giustamente Perché ha scelto Sti posti Come ha fatto In base a cosa Le ha scelte Perché c'era stato Questo è molto carino Non la di che È più che altro carino Ma quello che mi piace È il personaggio Di kuma Cioè lui Si ostina Quante volte Hanno detto A kuma Lascia stare Questa bambina A dieci anni Non ci arriva nemmeno Le resta poco Goditela Quei pochi anni Che restano No Lui rinuncia A quei pochi anni La lascia lì E va E viaggia E c'è un dettaglio Che vale tutto il capitolo Questo Questo kuma Che all'improvviso Crolla Con una mano in fronte Piange Nel frattempo Ha nella sua mente L'immagine della figliolina Che ride Questo non si arrende Mai C'è speranza C'è anche rabbia Ovviamente Perché non può non esserci La rabbia Quando una povera bambina È destinata a morire A dieci anni Non puoi non avere rabbia Tra l'altro Una bambina Che Gli è stata Affidata Tra virgolette Da Ginni Con quella chiave di lettura Di cui vi parlavo Cioè Ginni Non gliela ha detto direttamente Ma indirettamente A me piace pensarla così Lo sapete Quindi C'è questo aspetto Di un Kuma Che rappresenta praticamente L'oltreuomo di Nichi In un certo qual modo Colui che non accetta Colui che va avanti Questo ragazzi È un manga shonen Anche se poi Ha tantissimi aspetti Senen E lo stiamo leggendo In chiave senen Ma è un classico shonen Perché gli adolescenti Così dovrebbero vivere La loro vita Questo è il messaggio Ultimo Il messaggio chiave Che sarà anche quello Di Rufi Alla fine Che Oda vuole lasciare nel manga Non arrendetevi mai Siate come Kuma Vi diranno Lascia stare Va avanti E guardate La filosofia Anche bella Perché poi Voi sentite tante teorie Galimberti Più volte Troverete dei video Per chi segue Un po' Il panorama Dei filosofi italiani A parte il turbo capitalismo Galimberti dice Questa cosa Interessante Sul daimon Il concetto Che secondo lui Secondo i greci Noi dobbiamo capire Qual è il nostro metro Di misura Cioè Io so quali sono I miei limiti Li accetto E vivo In base a questo Questo in realtà Non è la filosofia O la filosofia greca È un modo Di vedere la filosofia Anche la filosofia greca Si divide in destra e sinistra Quelli più conservatori E quelli più progressisti Più Che lottano contro il sistema One Piece È un manga Chiaramente Di filosofia Di lotta al sistema Un filosofia Di libertà Di rivoluzione Di no Di opporsi Ma è un manga Giustamente come dicevo Shonen Quindi anche Scorrendo un po' avanti Nelle tavole Questo Questo Kuma Che affronta Re Becori Ma poi rinuncia A diventare re Il che È bizzarro Ma infatti A lui non interessava Questo Lui semplicemente Vorrebbe un mondo giusto E un mondo equo Ma il mondo non è giusto Perché questo È un altro aspetto fondamentale Che accade In questo flashback Da punto di vista Filosofico Qualcuno potrebbe Chiedermi Mi autopongo La domanda Ma magari Vi sta venendo Davvero spontanea Strec Ma secondo te Sta malattia di Bonnie Quindi È voluta Da Oda Come genetica O come Diciamo Messa lì Da qualcuno Ma sapete Che a me Non dispiace Affatto Se fosse genetica Poi magari Oda Cambierà idea Ma perché Dico questo Perché Anche la natura Delle volte E ci mette Lo zampino Mi spiego Se la malattia Di Bonnie Fosse stata Artificialmente Voluta Da qualcuno Anche così Per fare un esperimento Alla cacchio di cane Però avremmo Un'idea Del mondo Dove La natura È giusta Il mondo È giusto Poi purtroppo Sapete Ci stanno Questi maledetti Cattivi Questi maledetti Antagonisti Che prendono Una bambina Di 5 anni E la fanno Morire a 10 Mettendole su Una malattia Così per sfizio Ma se non fosse Per loro Il mondo sarebbe giusto La verità No Ma Non è così A volte La natura Il destino La sfiga Ci sta Quindi il fatto Che Bonnie Abbia preso Magari c'era L'1% Di trasmissibilità Se l'è cuccato Fa niente Perché questo succede Perché la natura È anche questo E quindi Un kuma Che lotta Contro il re Lotta contro il sistema Ma delle volte Deve lottare anche Contro la natura Perché le cose Succedono Non solo perché Le hanno voluti Cattivissimi draghi celesti Perché dopo pare Capito che tutte le cose Brutte le hanno volute loro No no Il mondo non è fatto Solo da cattivi È fatto anche così Da cose che vanno accettate Ma ciò non toglie Che si può sempre Combattere Ecco perché Mi dispiace Anche Cioè o meglio Mi piace anche L'aspetto Qualora fosse Di una malattia genetica Semplicemente quella Quindi kuma Ha combattuto Contro tutto Contro i re Contro i draghi celesti Contro il destino Contro tutto Bellissima sta storia Dopodiché Vabbè di Bonnie Parliamo dopo Qui parte praticamente Adesso sto leggendo Il viaggio di kuma Bellissima la scena Di lui che affronta La nave di re becori Uccidete colui Che ha osato Sfilare il re Viene ripetuto Sta cosa Lui Lo sfida di nuovo Viene nominato Ufficialmente Re tiranno E poi Inizia questo viaggio Vediamo qui Le varie cose E poi c'è L'incontro con dragon Io direi di andare avanti E parlare anche un po' Di dragon Comunque Quest'immagine qui ragazzi Per me questo è il top Perché Oda ci vuole anche raccontare Infine una cosa Guardate ragazzi Che anche personaggi Come kuma Che sembrano Intransigenti Stacano visti Non mollano mai Ma poi il momentino Di disperazione Ce l'hanno Quindi tranquilli Anche voi Potrete avere ogni tanto Un momento Di crisi Di pianto Ma non mollate Lo stesso Andate sempre avanti Scena 2 Qui andiamo un po' Più veloci Perché veramente C'è poco da dire In alcuni dettagli Dragon Allora Abbiamo questo dragon Un po' diverso Dal solito Vi dicevo anche prima In analisi tecnica Mi è piaciuto Un dragon Che gode Di più la vita Racconta anche Con una certa tranquillità Leggo il dialogo Ah proprio Iva e Nazuma Sono stati catturati Ovviamente Oda dice questo Perché sta spiegando Impel Down Però comunque divertente Anche sta storia Mi è piaciuto molto Poi Sabo e Koala Volevano vederti Bello anche il fatto Di questo Di come avvengono I passaggi di consegni All'interno del posto Dei rivoluzionari Cioè Belobetti ha dovuto Chiedere a kuma Per rispetto Se poteva prendere Il posto di gini Questa è anche Una cosa molto bella Che secondo me Anticiperà a breve Una cosa Dopo ne parliamo Con Saturn Cioè di come si fa Un nuovo corosè Perché secondo me Alla fine di sto flashback Dopo vi dico Ma secondo me Saturn Non credo Che tornerà Sano a Mario Poi magari mi sbaglierò Parliamo anche di Bonnie Comunque Dragon Mi è piaciuto tanto Ci sarebbe una cosa A dire sul frutto Ma per un motivo chiaro Ve ne parlo dopo Sul discorso del vento Mentre invece Parliamo di Bonnie Ecco qui abbiamo Un po' Crocio e delizia Del capitolo La parte più bella Secondo me È la comicità Io in live Non avevo capito subito Che questo era Connie Però onestamente La scena è perfetta Soprattutto di questa Bonnie Che apre lei la porta Parla con tranquillità Al re Sì al marito di Come si chiama Doberman Dogson Come cazzo si chiamava Il re lì Lo stavo leggendo prima Il capitolo ce l'ho qua Bulldog Bulldog Mi sono sbagliato cano Ho detto Doberman Comunque quello è Od è fissato quei cani E ci sta Lo capisco pure Anche io gli adoro i cani Comunque Il re Bulldog Che era un re buono Dicevano Nel regno Sì non è che Ne eravamo ricchi Però comunque Almeno stavamo bene Il re Bulldog Ma in realtà C'è anche da considerare questo Magari è stato anche Un re semplicemente fortunato Cioè quando lui ha regnato I draghi celesti Ancora non avevano Deciso di allungare Le loro mani Le loro zampe Su questo regno Nel momento in cui Sono arrivati loro È finito tutto Perché poi hanno portato Il casino Tu hai una scelta O accetti le nostre condizioni O sei fuori dal governo Se sei fuori dal governo Fai la fine di God Valley Non c'è più altra scelta Alla fine No È un mondo veramente Molto corrotto È ovvio che alla fine Deve essere completamente Ribaltata la situazione Però Detto ciò Carina la comicità Ma al tempo stesso C'è questo strano Schippare Completamente Come Bonnie Abbiamo mangiato il frutto Io ringrazio tutti quelli Là che in live Mi dicevano Strike Potrebbe essere accaduto Questo Il frutto è stato preso A God Valley No L'ha portato Rebecori No Il frutto è caduto dal cielo Sì Tutto bello Ma sono spiegazioni Che mi state dando voi Io le cercavi One Piece Dopodiché Anch'io posso inventarmi Le è uscito dal culo A Jolly Bon Il frutto Cioè Che ragionamento è Io volevo Vederlo in One Piece Qualcuno che mi spieghi La possibilità Le possibilità Ce le siamo inventate Tutti Però vabbè Grazie mille Per coloro che ci hanno provato Vi ringrazio Vabbè Comunque Magari Oda Non l'ha ritenuto Una cosa così importante Onestamente Però A me un po' è dispiaciuto Perché tra l'altro Una bambina Che vive chiusa In una chiesa Cioè Il frutto qualcuno Glielo deve portare A sta bimba Capito È già quello di Rufi Che viveva Chiuso nell'isola di Fuscia Come ha fatto A mangiare quel frutto Eh Gliel'ha portato Shanks Che era un viaggiatore di passaggio Ecco Anche una storia così Ci stava bene Parliamo un attimo Però di Vegapunk Allora Anche perché L'angolo della posta Ce lo facciamo Visto che Ovviamente Non c'è pausa Allora Vegapunk Anche con questa inquadratura Con questa immagine di Oda Un po' impiedosa Dice Se mi dà il permesso Di campionare il suo sangue Di clonarla Non le chiederò soldi Per curare Bonny Tanto ne ha Vero? Praticamente Un Vegapunk Che Dinanzi a una bambina Malata Che è pronta a morire Tra l'altro Che non è neanche lontano La vede lì Davanti ai suoi occhi Lui Avrebbe rifiutato Le cure Non avrebbe salvato Quella bambina Se il padre Non fosse stato Non avesse avuto il culo Di essere di sangue Baccania Che è il nome Con cui in giapponese Chiamano i bucanieri Ma quello è Ci siamo capiti Quindi Un Vegapunk Veramente crudele Questa scienza Che Fa morire le persone Pur di non spendere soldi Se non poterci ricavare soldi Quindi questa immagine Di una scienza Che non produce i farmaci Per aiutarci Ma semplicemente Per guadagnarci Anzi Ci fanno venire le malattie Così comprami i farmaci Eccetera E qui veramente Tutto l'odio Come al solito Per questo discorso qui Che poi la vita Si sta allungando Con una linea impressionante Però niente Siamo tutti quanti Manipolati Ciò non toglie Che effettivamente Vi faccio un esempio Ecco questa è una delle poche foto Che volevo fare Albert Sabin O secondo qualcuno Sabin Che praticamente Rinunciò ai soldi C'è questa leggenda Lui è l'uomo Che inventò il vaccino Non diciamo questa parola Che dopo Youtube vi demonetizza il video Qui però capito Non si può dire Contro la poliomelite E praticamente Lui Non perse tempo Per il brevetto Avrebbe Il tempo di tutta la procedura Cioè che poi Gli avrebbe fatto guadagnare Tanti soldini Per lanciarlo subito In modo Da poter salvare Già le persone Anche il bambino ovviamente Che veramente Non c'era tempo Non c'era tempo E quindi lanciò subito Questo vaccino Ed è ricordato un po' Come un eroe Per aver rinunciato ai soldi Pur di guarire le persone Ecco esattamente l'opposto Di quello che vediamo Nel vecchiaccio Tuttavia Proviamo Anche un'altra chiave Di lettura Io potrei anche pensare Questo Se Vecapanca Ha citato in questo capitolo Almeno ieri In live Mentre leggevo C'era questa affermazione Così pesante Sulle cellule staminali Praticamente Si si può guarire Jolie Bonny Ma praticamente Con le cellule staminali E' un nuovo tipo di cura Che possiede solo lui Beh se Oda vuole fare Anche questo riferimento Tipico al nostro mondo Guardate che costano Un botto Cioè La cura cellule staminali Costa in ira di Dio Infatti C'è questa leggenda Che suggeriscono anche Di salvare la placenta Il cordone ombilicale Quando sei piccoli Perché pieno di cellule staminali Magari un domani Possono servire Cioè sono robe Perché costano Magari può essere pure Che Vegapunk Dice Sì So come fare Ma chi mi dà Le cellule staminali Cioè le devo chiedere A qualcuno Magari al governo Che me le porta Ma il governo Mi dice Guarda io ti pago Per costruire armi Non per guarire persone Che vengono a trovarti Che vuoi aprire In un ospedale Vuoi aprire lì Cioè Quindi Ma allora Vegapunk Potrebbe dire Facciamo così Io chiedo i fondi Per questa cura Cioè cellule staminali Che costano un botto Ma in cambio Posso dire Guardate Se io In cambio A questa persona Lui Diciamo Io ho chiesto Di avere il suo corpo Per produrre armi Eccetera Eccetera Quindi Attenzione E poi comunque Ricordiamoci Che non sappiamo ancora Come si conclude Questo patto Visto che Saturn Ha un'idea E parliamo anche Un attimino di lui Quindi Il buon Saturn Che dice questa frase Vegapunk Non so sfruttare Le occasioni Ma per fortuna Mi è venuta un'idea Allora Ovviamente Saturn Appena sente parlare Di Baccani Ha già capito Chi è sto tizio Cioè Kuma Lo conosce bene E quindi Vuole sfruttare L'occasione Gli è venuta un'idea Quindi Attenzione Non sappiamo ancora Esattamente Poi come Saturn Si intromette In questo patto Cioè Noi al momento Sappiamo che Vegapunk Ha deciso Di curare Bonni E in cambio Può usare Il corpo di Kuma Per creare I pacifista E Saturn Che idea vuole In che modo Si intromette Potrebbe ad esempio Rapire Julie Bonni Obbligando Kuma A donare Completamente Il suo colpo Alla scienza Potrebbe Dire che Se Kuma Non fa Determinate cose Julie Bonni Verrà uccisa E quindi Julie Bonni Sarà sempre Un personaggio Che la marina Dovrà Proteggere In un certo Qual modo Non potrà Mai toccare Quello che Stanno Che lei Ha una taglia Dead or alive Non Only alive Questa è la Unica cosa C'è la Sange Non Bonni Però per dire Vediamo poi In che modo Si intromette Saturn Però qui L'aforisma Della settimana E di Ernesto Guevara Della Serna Detto anche Il C'è Il quale Disse Le idee Non hanno Bisogno Di armi Se sono In grado Di convincere Le grandi Masse E torniamo Un po' Al discorso Di prima Ecco Un altro Di quelle Persone Che nel Bene o Nel Male Ha affrontato Sempre i Sistemi Uno degli Argentini Più Cazzuti Della storia Sicuramente No Rivoluzione Boliviana Tantissime Questo tra l'altro Fu Mi sembra Questo discorso Nel suo discorso Ad Algeri Questo qui Dovrebbe essere Anche in Africa Vari Interventi Che ha fatto E poi Sapete La rivoluzione Cubana E poi Ci ha lasciato Le penne In un'altra Rivoluzione Però per dire Anche queste idee Di fondo È molto bella Perché in questo capitolo Saturn parla Leggiamo un attimo La frase Il valore Di un'arma È pari A quante vite Può spezzare Ma in realtà Diceva appunto Guardate che bello Come si oppone Che Guevara Che diceva Le idee Non hanno bisogno Di armi Se sono in grado Di convincere Le grandi masse Quindi Voglio fare Un'ultima riflessione E poi ci lanciamo All'angolo della posta Questo Governo Manipolatore In One Piece Scusatemi Voi Quanti modi Governo Manipolatore Conoscete Io due Personalmente Quello lì Che è esplicito Cioè Dittatura Qua ci stiamo noi Come andiamo noi Il primo che parla Spariamo Punto E poi c'è il governo Quello lì Nascosto Latente Molto più complottistico Che quello di One Piece Cioè teoricamente Le persone In One Piece Non è che Diciamo Rispettano le regole Il discorso di prima Perché hanno paura Lo fanno perché Sono convinte Di rispettare Quell'equilibrio Mentre invece Ufficialmente In realtà C'è un complotto Dietro Quindi è un governo Latente È un governo Sporco È un governo Corrotto Tuttavia la domanda Che mi pongo È anche perché Ora nel mondo Di One Piece Anche già L'epoca del flashback Quindi prima di Luffy C'è tutta questa fretta Di avere armi Pacifisti Adesso Serafim Voler rimettere le mani Sulle armi ancestrali Ma voi per 800 anni Non avete fatto un cazzo Non ve ne siete mai fregati Della Pluton E mo' correte Per le armi Questo Ricorda ancora di più L'idea Che One Piece È una È una lunga Un lungo timer Con questa lunga Resa dei conti Che ci sarà In quest'epoca E poi infine ragazzi Stiamo quindi Per tornare qui Il 1100 ripartirà Con Il nostro Trasformato In Ushioni Saturn Che ha Giolino in braccio Tutti pronti a sparare E io credo Che in questa scena In questo momento Qui sta per intervenire Kuma Che farà qualcosa Poi Ognuno si è inventato le sue Kuma prenderà il dolore Di Rufi Lo sbatterà dentro Saturn Dentro Kisaru Nel frattempo Ci sono anche Le altre storie Infatti Vediamo un attimo Le quote Io suggerisco questa Che secondo me Allora il flashback Non è terminato Purtroppo Mi dispiace Però abbiamo avuto novità Sull'età di Bonny E non siamo ancora tornati a Egghead Nel prossimo capitolo 1100 Io penso che rivedremo Rufi Perché finirà il flashback E almeno un'inquadratura Di Rufi Ci deve stare Kuma Kuma arriverà a Egghead Perché ormai Non c'è più motivo Di farlo ancora viaggiare Nella sua bolla Ormai Ha superato pure la redline Facciamola arrivare Sto Kuma Tanto tutti ce l'aspettiamo Cioè l'idea che Kuma Adesso vada ad erba A fare una cazzata colossale Cioè lo vogliamo qui Kuma Ecco Zoro contro Lucci Questo è uno di quei duelli Che deve in qualche modo Terminare Non per forza Con la vittoria di uno Anche con i due Che si allontanano Però qualcosa Deve finire lì E io vorrei vedere Anche un attimino Ticci Magari non subito Nel 1100 Ma se vuole fare Il capitolo bomba Ci mette anche Ticci Comunque E la più bella Della settimana Ecco perché vi dicevo Ne parliamo dopo Questa qui Va dove ti porta il vento Che è una frase Bellissima Perché da un lato Ricorda Lo spirito Questa morale Dell'oltreuomo di Nietzsche Cioè di colui Che in realtà Ha il valore di voler Combattere contro il sistema Ma al tempo stesso Ricorda un po' Il suo legame Al vento E il vento di Rocktown E il vento di Baltico E in generale A questo frutto Che per me È uno Zoan Mitologico Lo sapete Modello Drago Occidentale Ma non si discute proprio Anche perché Se cado È il modello Carpa Automaticamente Questo è proprio Il modello Drago A tutti gli effetti Dopodiché Andiamo anche un po' Alla posta Vediamo cosa Mi avete scritto Di bello qui Interagisci Apri il forums Eccolo qua Allora abbiamo Il primo simpaticone Che ci parla di Lumacofono E frutto Vediamo un po' Garp Sama Ciao Strike Rispondi qua Alle tue domande in line Rispondo Il lumacofono è nero Perché quelli Che si usano Per le interpretazioni Sono sempre neri Non c'è nessun altro Dall'altro lato Vedi Chisaro Sì mi avete scritto in tante Su questa storia Oda dice chiaramente Come nascono i frutti Dalle preghiere E dai desideri Delle persone Quindi è apparso Il frutto Età età Perché la gente Pregava e desiderava Che Bonnie guarisse E superassi dieci anni Ecco che il frutto È apparso So che già si sapeva Della sua esistenza Ma penso che Oda Abbia fatto un errore Oh addirittura Cioè Come dire La mia teoria È quella giusta Oda è quello che ha Sbaglio Bellissima questa Comunque Infatti ho storvolato Apposto alla spiegazione Prossimo capitolo Finalmente finisce La storia di Kuma Probabilmente Se parte il flashback Di Bonnie Però sarebbe una noia Come è diventata Una supernova E cioè No vabbè Non credo che adesso Anche perché Non può partire Il flashback di Bonnie Per il semplice fatto Che noi Stiamo attraverso Bonnie Vedendo praticamente Le memorie di Kuma E penso che Pensare Adesso anche Le memorie di Bonnie Dentro Bonnie Mi pare proprio Un casino Cioè onestamente Direi che va bene così Mi piace tantissimo Sta cosa di Oda Che ha sbagliato Perché il frutto Per chi non avesse Seguito la live Il discorso è che Praticamente Se il frutto Fosse stato appena Creato In questo momento È strano che Compareva già Nel librone dei frutti Questo era il fatto Ma praticamente È un errore di Oda Perfetto Scienza e politica Dice il buon Mitch Sentiamo cosa ci dice Buongiorno Strike Le tue riflessioni Sono sempre interessanti Ed è incredibile Come One Piece Riesca a stimolare La riflessione Su temi così importanti Attuali per l'essere umano L'ontologia Adesso il discorso Qui dell'oltreuomo Della volontà di potenza Comunque Oda in questa saga Ci sta mostrando Come la scienza Non sia altro Che la curiosità E la voglia dell'uomo Di verificare La possibilità O l'impossibilità Di concretizzare In fenomeni Dell'idee Lo scienziato Quasi sempre Non si chiede Se la fenomenizzazione Di un'idea E la sua manifestazione Concreta Sia un bene O un male Ma si limita Solo a verificare Se sia possibile O meno Al più Si rappresenta Qualche vaga Implicazione Spesso Ingenuamente Ottimistica Spesso ci accade A noi Ma la voglia E la curiosità Della verità Scientifica Nello scienziato Prevale sempre Sull'analisi Filosofica E politica Rispetto agli utilizzi Ai fini di una Determinata innovazione Scientifica E forse è anche giusto Così Uno si dice Strike Perché non fai 40.000 visualizzazioni Ma se leggo Ste roba Come cazzo Inevitabilmente Sarà la politica E il dibattito pubblico In generale A dare una direzione Verso un determinato Fine All'innovazione Scientifica E infatti Sarà poi Saturn Il governo A decidere L'utilizzo E lo scopo Dei pacifista Spero che questo Capitolo Possa far riflettere Molti Sulla tendenza Attuale A mascherare Di scientificità Alcune scelte Politiche Per l'ende E le inopinabili E sempre comodo Per la politica De responsabilizzare Scelte difficili Il cappello Della scienza Offre un fortissimo Scudo Ma è sempre La politica A decidere Se è giusto Sbagliato Concretizzare Una determinata Scoperta Innovazione Scientifica Lo scienziato Ci dirà Sempre E solo Se è possibile O impossibile Farlo Praticamente Ha citato Un po' Il senso Di fondo Anche del film Oppenheimer Che è andato Molto di moda Ma quello Ci vuole insegnare Che gli scienziati Alla fine Innanzitutto Sono curiosi Hanno un'idea Hanno un'intuizione Io potrei Con un neutrone Spararlo Da lì Colpire altri neutroni Fare una reazione A catena Qui esce fuori Una bomba Wow Io vorrei provare A sta cosa Sono curioso Di vedere Se funziona Poi da lì Nasce l'idea C'è una guerra In corso E poi sono i politici Che decidono Come utilizzare Quest'arma Un'arma che poi Alla fine Ha portato bene Ha portato male Da quando è uscita fuori Dopo quelle due volte Non abbiamo più avuto Una vera e propria guerra Se non guerre fredde O guerre mai più Tra superpotenze Quindi è stato un deterrente Utile o meno Diciamo Alla fine Poi ci sono le interpretazioni Degli storici Che parlano sempre a posteriori Però è veramente interessante Tutto questo dibattito Anche sulla scienza Mi è piaciuto tantissimo Ar Ciao Riflessione un po' Oltre il capitolo E quando mai Su strike Con questo capitolo Ancor più Ho letto Elogiare i genitori adottivi Poiché anche loro Darebbero tutto Anche loro stessi Nonostante i figli privi Del loro DNA Fin qui sono d'accordissimo Secondo me però Si sta trascurando Trascurando un altro Comportamento genitoriale A mio parere Molto più divisivo Del primo Una mamma biologica Che ama E si sacrifica Per il frutto Di una violenza Di una violenza Ah ok La gravidanza A valle di uno No Per esempio È una delle Motivazioni forti Per giustificare La legge 194 Qui mi piace pertanto Vederci un riferimento Al valore della vita Anche quando dietro C'è stato qualcosa Di brutto Poi rispetto A nessun giudizio Per i vissuti Ragionamenti di tutti Questo ne avevamo Un po' parlato Per chi non avesse capito Il tema dell'avorto Cioè l'idea È che siccome Ginny Ha avuto questa bambina Da un uomo Che molto probabilmente Uomo con la U maiuscola Non lo è Sarà stato uno di quei draghi celesti Uno di quei mocciosi Uno di quei Di quei bastardi Di quegli uomini Non uomini A lei avrebbe anche potuto dire Vabbè questa bambina Lascio lì Ci rinuncio O addirittura Interrompo la gravidanza Come spesso Si dice Una donna Vittima di Ha il pieno diritto Di interrompere la gravidanza Non vuole dare alla luce Il figlio di quel mostro Tuttavia ovviamente Chi è pro life Diciamo dice no Perché comunque Questo bambino Un'anima innocente A prescindere Eccetera È un tema Una tematica molto discussa Che vagamente È troppo delicata Questa per essere Affrontata in maniera esplicita In One Piece Ma viene comunque Cioè compare Emerge Come un'ombra Da questa vicenda Di questo flashback Tanto 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 potente Ragazzi c'è poco da fare È un flashback Veramente gigantesco Questo qui Sarà una delle pietre miliare Del manga Antares Infine che dice Vorrei soffermarmi Su un aspetto del capitolo In particolare Il frutto di Bonnie Non viene fatto vedere O spiegato come Bonnie Si è entrato in possesso del frutto Se si trattasse Della questione detta da Vekapunk Che sono destinati Dai desideri umani Originate da desideri Se ci pensiamo Bene Bonnie è un fortissimo desiderio Che di crescere Per arrivare a dieci anni E finalmente guarire Potrebbe darsi Che ciò abbia creato Il rispettivo frutto Nelle sue mani Beh effettivamente Vedere Bonnie Che in continuazione Dice voglio arrivare a dieci anni Così posso viaggiare Potrebbe aver stimolato il frutto Potrebbe darsi Che ciò abbia creato Il rispettivo frutto Farebbe davvero strano Che il frutto Sia stato introdotto in chiesa Con il cibo normale Senza che nessuno Se ne accorgesse In particolare Visto che avevano A portato di mano Il libro dei frutti Potrebbe essere Che i frutti Crescono vicino A chi ha il desiderio Più forte Nella chiesa Oltre a Bonnie C'erano tante altre persone Che volevano cambiare La proprietà Eccetera Eccetera Allora potremmo provare A unire entrambe le cose Visto che il frutto Già esiste E non è stato generato adesso In questo preciso istante Potremmo pensare Anche semplicemente Una cosa Io vi avevo detto Una teoria Che Roger è morto Per creare L'era della pirateria Cioè lui Nel momento della sua morte Ha creato Quell'ondata di voglia Di libertà Che ha risuscitato Il Nika Nika No Mi Che poi vabbè C'era probabilmente Un timer Perché stava Per risorgere Però lo ha risuscitato E ha detto a Shanks Tu vallo a cercare Io farò di tutto Per farlo risuscitare E tu vallo a cercare Ecco potrebbe Effettivamente essere Che il frutto di Bonnie Era un frutto Magari scomparso da tempo Quest'anima del frutto Vagava per il mondo Nel momento in cui Jolly Bonnie Ha desiderato Così tanto Crescere Questo frutto Ha deciso Di reincarnarsi O direttamente Persino nella bambina Perché attenzione Il frutto Può anche essere preso Senza il frutto Come è successo A Big Mom Che ha mangiato Madre Carmel Oppure addirittura In questa maniera L'anima stava vagando Senza neanche Dover andare in un frutto È andato direttamente Nel corpo della persona Che proprio rispecchiava Quel tipo di desiderio Magari Jolly Bonnie Ha avuto La stessa quantità Di desiderio La stessa voglia Proprio della persona Che quel giorno Fece nascere il frutto Quell'anima del frutto Che vagava Magari è andato Direttamente Appunto Rispettando anche La regola Secondo cui Il frutto Che può scegliere La persona Soprattutto sarebbero Izona Ma magari funziona Anche con i varia miscia Detto ciò Io vi saluto Spero che il video Non sia stato troppo pesante Vi ricordo che domani Per chi volesse Ci siamo Sull'altra piattaforma Per Juve e Inter E detto ciò Auguro a tutti Un buon weekend Vi chiedo scusa Per la mancanza di foto Ma sono veramente Cioè È stato molto stancante Questo Questo Periodo Della mia vita Diciamo così Vi ringrazio Un bacione Mi raccomando Fate bravi E buon weekend a tutti Ciao Ciao